Una spettacolare cornice di pubblico con circa 4000 spettatori che hanno gremito il comunale ha regalato alla Calabria sportiva e non solo uno spettacolo incredibile per questo Locri Siderno ad altissima quota. Il 2-0 finale è figlio di una gara ben giocata dei ragazzi di Scorrano che al netto di una sofferenza iniziale durata circa 10 minuti dopo aver preso le misure alla Gagliarda a formazione ospite hanno saputo colpire al momento giusto. Per il Siderno le recriminazioni maggiori arrivano per la mancata spietatezza di Mendy che già dopo due minuti poteva cambiare i destini della partita ma il suo colpo si è infranto tra i piedi di Galluzzo. Dopodiché il primo tempo ha regalato storie già viste generalmente nel derby vale a dire tanto agonismo ma poco spettacolo e pochi tiri importa. La ripresa è iniziata con gli stessi effettivi ma il crack è stato l'ingresso in campo di Matteo Carbone risparmiato dall'undici iniziale insieme a Conversi poiché entrambi due giocatori reduci da qualche fastidio. Passando alle reti il primo gol è ad opera di Ruggero che dopo gli sviluppi di un'azione d'angolo raccoglie una palla messa in mezzo da Dascoli e in girata di destro va a bruciare Stilitano sul secondo palo. La seconda marcatura invece è figlia della voglia di Carbone di mettersi in luce tant'è vero che il numero 7 Maranto una volta ricevuta a palla da Libri dopo una corsa a perdifiato entra fino all'area di rigore resistendo anche alla carica degli avversari andando a segnare la rete del 2-0 che manda in estasi la tifoseria di casa. Da quel momento succede molto poco con un siderno abbastanza confuso e disordinato nella reazione e dunque al triplice fischio gli amaranto in questo derby perenne contro gli avversari biancazzurri possono brindare il vantaggio di tre punti in classifica. Una menzione speciale va alla terna arbitrale composta da Costa di Catanzaro decorato di Cosenza e Celestino di Reggio Calabria assolutamente capaci di gestire un big match così delicato.